Up, sit, plaz, up, bravo, sit, bravo, plaz, bravo, sit, bravo, up, bravo, plaz, tac, yes! Ciao e bentornati! Prima di iniziare con l'argomento di questo video voglio fare dei ringraziamenti innanzitutto a tutti voi che state seguendo questo canale perché grazie a voi abbiamo raggiunto un primo importante traguardo che è quello dei 1000 iscritti. In realtà in questo momento che vi sto parlando abbiamo superato quella soglia di quindi ancora grazie e grazie per i commenti che state lasciando sui video. Questo canale sta crescendo in maniera costante, ve ne sono grato e grazie ancora per chi mi sta scrivendo, dichiarandomi stima e chiedendomi anche consigli. La cosa mi lusinga. Mi raccomando scrivetemi anche nei commenti ai vari video se c'è qualche argomento in particolare che vi piacerebbe io trattassi. Un altro ringraziamento va a chi nei giorni scorsi è venuto a trovarmi nelle varie località nelle quali ho tenuto delle giornate di lavoro. Io sono rientrato a casa da pochi giorni ma ho passato le ultime due settimane in giro tra il Friuli, il Trentino, la Lombardia, la Toscana e l'Umbria. Tutte le date sono andate bene, siamo riusciti a riempire tutti i posti disponibili in tutte le località. Ho finalmente dato volto a qualche nome nei commenti ai vari video di Youtube e quindi sono contento per chi incuriosito da questi video ha voluto poi venirmi a conoscere di persona. E spero di persona di aver lasciato una buona impressione e soprattutto di avervi dato qualche utile consiglio per le varie problematiche che mi avete presentato in questi giorni. Grazie ancora, in futuro ci saranno sicuramente altre occasioni. Nel video di oggi parleremo di posizioni, ossia il seduto, il terra e la posizione del cane in piedi. Sono posizioni sicuramente molto importanti per chi fa discipline sportive e richiedono una determinata precisione di esecuzione e soprattutto un determinato modo da parte del cane di esibire questi tre comportamenti, queste tre posizioni. E quindi io vi mostrerò in questo video come io raggiungo quell'obiettivo lì, ossia che il cane si metta in una determinata posizione in un determinato modo, come io gli insegno. Allora innanzitutto, io prima di iniziare a insegnare le posizioni al cane, quello che io faccio è osservare il cane. Cioè io cerco di vedere e capire qual è il movimento che il cane fa naturalmente, per esempio per sedersi o per andare a terra. Mi spiego meglio. Prendiamo per esempio la posizione del seduto. Noi abbiamo il cane in piedi e la posizione che prendiamo in esame in questo momento è il seduto. Nel momento in cui io decido come il cane deve mettersi seduto, la prima cosa che io faccio è osservo il cane come naturalmente si siede. Dalla posizione in piedi il cane può sedersi facendo due movimenti ben distinti. Il primo è, cercate di immaginare quello che io sto per dirvi, createvi proprio un'immagine mentale. Voi avete il cane in piedi davanti a voi. Il cane può sedersi sostanzialmente in due modi. O rimanendo con le zampe anteriori ferme nel punto in cui si trovano e raccogliendo il posteriore, quindi sono le zampe posteriori che vanno verso quelle anteriori, in questo modo il sedere del cane andrà giù. Ok? Quindi dalla posizione in piedi le zampe posteriori si raccolgono vicino le anteriori e quindi il cane va giù con il posteriore. Nel secondo movimento succede il contrario, ossia il cane ha le zampe posteriori ferme e sono gli anteriori che indietreggiano e quindi fanno sì che il cane debba, ovviamente se lo spazio tra gli anteriori e i posteriori diminuisce, è normale che il cane per starci dentro debba cambiare un po' la posizione della schiena e quindi sostanzialmente quello che succede è che il posteriore va giù. Quindi i due modi sono i posteriori che vanno verso gli anteriori oppure viceversa, gli anteriori vanno verso il posteriore. E entrambi questi movimenti esibiti dal cane producono la stessa posizione, che è il seduto. Quello che io faccio quando devo insegnare al mio cane il seduto, per esempio, continuiamo con questo esempio, quello che io faccio è osservo il cane per vedere il cane naturalmente, cioè senza che io intervenga in nessun modo, in che modo si siede? Qual è il movimento che gli riesce più naturale? Indietreggiare con gli anteriori o avanzare con i posteriori? Nel momento in cui io capisco come il cane si siede naturalmente, cioè qual è il movimento che preferisce, nell'insegnare io quel comportamento non farò altro che assecondare la naturale propensione del cane. Quindi, per esempio, io con Belial ho insegnato le posizioni tenendo sempre gli anteriori fermi perché ho notato che Belial nel sedersi e nell'andare a terra prediligeva questo tipo di movimento, cioè mantenendo gli anteriori fermi e muovendo di più il posteriore. Quindi io non ho fatto altro che insegnargli i comportamenti assecondando quella che era una sua già scelta naturale. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Per quale motivo io sto parlando di anteriori o posteriori fermi? Perché, per esempio, nell'obedience, che è la disciplina che io pratico, nonostante sia fermo da un po' e dovrei riprendermi agli allenamenti con Belial, io sono una persona pigra, perché parlo di anteriori o posteriori fermi? Perché nell'obedience le posizioni vanno esibite con un criterio molto 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 preciso che è appunto il cane deve tenere o gli anteriori o i posteriori sempre fermi. Questa è una scelta del conduttore. Il regolamento non dice espressamente quali devono essere ferme, ma richiede che almeno una coppia di zampe, le anteriori o le posteriori, rimangano ferme nel punto in cui il cane è all'inizio dell'esercizio. Quindi, ritornando al discorso con Belial, io ho visto che lui era naturalmente portato a cambiare posizione mantenendo gli anteriori fermi, ho deciso che io avrei lavorato le posizioni insegnandogli ad essere più preciso nel tenere gli anteriori fermi. Quindi, come si procede? Vi faccio vedere prima la clip e poi ve lo spiego. Vi faccio vedere prima la clip e poi ve lo spiego. Fiorettere Fiorettere Sì. 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 Bravissimo. Allora, come si parte a lavorare? Mettetevi giù in ginocchio, possibilmente, su qualcosa di morbido, se vi dà fastidio stare inginocchiati a lungo, però questa è la posizione che voi dovrete mantenere per tutta la sessione di lavoro. Quindi sappiate che le vostre ginocchia devono stare per terra. Mettetevi comodi, ok? Una volta che io sono in ginocchio, non faccio altro che posizionare il cane esattamente dove lo voglio io. E potete farlo tranquillamente in luring, cioè con un boccone in mano, mano davanti al naso del cane, e non dovete fare nient'altro che portarvi il cane davanti a voi in laterale. Se siete destri, ovviamente la testa del cane sarà rivolta verso la mano destra. Se siete mancini, al contrario. Ok? Lavorate comodi. Quindi porto il cane nella posizione in cui voglio, e nel momento in cui ho il cane davanti a me in laterale in piedi, pago immediatamente. Quindi la prima informazione che do al cane è guarda che se stai in questa posizione avrai cibo. Quindi il cane... metto il cane nella posizione in cui voglio, pago. Immediatamente io nella mano sinistra per i destri e nella destra per i mancini avrò già una manciata di bocconi pronta. Ok? Per essere più rapido. Questi sono lavori che vanno fatte ad alta frequenza di rinforzo. Dovete essere veloci. Quindi nella mano sinistra avrò dei bocconi, una manciata di bocconi. Quando il cane nella posizione apro la mano e il cane mangia il boccone che ho nella mano, immediatamente, non devo dare neanche il tempo al cane di capire cosa sta succedendo, con la mano sinistra porterò nella mano destra un altro boccone. È molto importante che sia la sinistra che porta il boccone e non la destra che venga a prendere. Per quale motivo? Perché noi tutto questo lavoro lo faremo utilizzando la mano destra e con dei precisi movimenti della mano destra. Ok? Quindi quello che noi diciamo al cane è sostanzialmente tu segui la mano destra, ok, e otterrai cibo. Quindi va da sé che se io ho la mano qui e questa mano rimane ferma ed è la sinistra che porta bocconi. Io avrò il cane fermo che dà attenzione alla mano che è ferma. Se è la destra che viene a prendere bocconi il cane sarà molto portato a seguire la mano destra che si muove e quindi a spostarsi e magari uscire dalla posizione in cui noi lo volevamo. Quindi mi raccomando è molto importante è la sinistra che porta cibo nella destra. La destra è sempre lì dove voi volete il cane. Ok? Quindi inizio a dare qualche boccone al cane nella posizione in cui io l'ho messo perché la prima informazione che do al cane è se stai qui qualcosa di buono succederà. Ok? Dopo aver dato due, tre, quattro bocconi comincio a lavorare le posizioni. Prima cosa le posizioni vanno lavorate a coppie. Ok? Noi abbiamo tre posizioni in piedi seduto terra. Dobbiamo dividerle in tre coppie. Quindi se ho deciso che inizierò a lavorare in piedi terra io lavorerò solo in piedi terra. Ok? In una sessione, in un'altra sessione io deciderò di lavorare in piedi seduto. In una terza sessione io lavorerò il seduto terra. Bene, sta piovendo quindi ci interrompiamo qui e riprendiamo appena possibile. Ok, ha smesso di piovere, possiamo ricominciare. Dicevamo che noi dobbiamo scomporre l'intera sessione di lavoro in più sessioni. Quindi abbiamo tre comportamenti da insegnare al cane. Lo faremo dividendo le sessioni in coppie di comportamenti su cui lavorare. Quindi iniziamo dal in piedi terra. Quindi cane in posizione in piedi noi dobbiamo portarlo a terra e poi farlo risollevare. Quello che noi vogliamo per esempio è che il cane tenga gli anteriori fermi. Ok? Quindi cosa facciamo? Con un boccone in mano partendo da vicino al naso del cane. La mano deve essere attaccata al naso del cane. Quello che noi faremo è scendere lentamente in diagonale tra le zampe anteriori del cane. Questo farà sì che il cane per seguire il boccone che scende in diagonale abbasserà prima la testa. L'abbassarsi della testa diventerà piano piano un inchino e poi il cane andrà giù anche con il posteriore. ritrovandosi nella posizione che noi vogliamo. Allora. Prima cosa. Molti cani possono fare resistenza a questo comportamento. Non andare a terra. Cosa dovete fare in questo caso? Pagare. Pagare in continuazione. Quindi non aspettate che il cane arrivi a terra prima di aprire la mano e fargli prendere quel boccone lì. Il cane abbassa un po' la testa? Pagate. E immediatamente mettete un altro boccone nella mano. Il cane abbassa la testa? Pagate. Il cane accenna anche lievemente un inchino? Pagate. Pagate in continuazione. Il cane deve essere più concentrato sulla mano e a mangiare i bocconi che arrivano da lì che non su quello che sta facendo. Molto spesso la chiave per ottenere qualcosa dal cane è far sì che il cane non si renda conto di quello che sta facendo. Ok? Quindi se voi pagate con un'alta frequenza di rinforzo il cane lentamente farà quello che voi gli starete chiedendo senza nemmeno rendersi conto che lo sta facendo. Più il cane oppone tra virgolette resistenza a questo comportamento maggiore dovrà essere il premio che tecnicamente è rinforzo, si chiama rinforzo, nel momento in cui andrà a terra. Quindi nel momento in cui il cane sarà tutto posizionato per terra compreso il posteriore pagate immediatamente con una bella manciata di bocconi. Ok? Più è alta la resistenza del cane più voi dovrete pagare nel momento in cui riuscirete ad ottenere quello che volete dal cane. Ok? In modo che per il cane quella cosa diventi wow. Alla fine il cane deve pensare alla fine non mi costa nulla vado a terra è una posizione anche comoda da tenere e ottengo un premio così alto. Boh mi conviene farlo. Diventa più naturale farlo. Ok? Quindi ricapitolando boccone nella mano attaccata al naso del cane voi scendete lentamente in diagonale finché non otterrete un lieve progressivo abbassamento del baricentro del cane fino ad avere il cane completamente a terra. Nel momento in cui il cane è a terra voi pagate posizionando i bocconi tra le zampe anteriori e pagate con 2-3 bocconi. Quindi sostanzialmente quello che noi dobbiamo dire al cane è quello che ti permette di avere il boccone non è semplicemente andare a terra ma è andare a terra e rimanerci finché non riceverai altre informazioni da me. Ok? Quindi se noi vogliamo che il cane vada a terra e rimanga a terra dovete continuare a pagare quando il cane è a terra posizionando dei bocconi tra le zampe anteriori del cane sul pavimento, sul terreno. Ok? Per questa posizione non vale quello che io vi ho detto poco fa ossia del tenere la mano destra ferma e la sinistra che porta cibo. Nella posizione a terra la mano destra si può muovere più tranquilla, potete muoverla più tranquillamente. Per quale motivo? Perché il punto di rinforzo è sul terreno tra le zampe anteriori del cane. Quindi anche se la mano che dà cibo si muove in realtà il cane impara a rimanere in quella posizione perché comunque il punto dove lui ottiene quello che vuole che è il cibo è lì per terra tra le sue zampe. Ok? Mentre nelle altre posizioni in piedi e seduto è fondamentale che la vostra mano sia sempre ferma, il più ferma possibile davanti al naso del cane perché il punto di rinforzo coincide proprio con la vostra mano. Ok? Quindi abbiamo messo il cane a terra, vogliamo che si rialzi. Ok? Cosa dobbiamo fare? Con un boccone in mano partiamo davanti al naso del cane e allontaniamo la mano in diagonale verso l'alto. Ok? Ci sono cani che rimangono comunque a terra perché noi gli abbiamo pagato il rimanere a terra e quindi il cane dice no io rimango qui perché è qui che ottengo i bocconi. Ok? In questo caso voi potreste avere bisogno almeno le prime volte di ripetere il movimento della vostra mano cioè riportare la mano davanti al naso del cane e poi allontanarla. Ok? Quello che voi dovete fare è come se steste tirando su il cane. Ok? Quindi la mano deve muoversi lentamente almeno nella parte iniziale e far sì che il cane voglia seguire la mano. Ok? Se il cane continua a opporre resistenza perché il cane dice ma io è qui che ho avuto i bocconi fino a un attimo fa quindi è qui che rimango quello che potreste fare è provare a muovere la mano con il boccone o addirittura far saltellare il boccone nella vostra mano in questo modo. Ok? Per cercare di indurre il movimento nel cane e il fatto che il cane si alzi. Quindi appena il cane ritorna in piedi voi pagate. Ok? E anche qui pagate due tre bocconi con il cane in piedi perché esattamente come il terra noi stiamo dicendo al cane non è solamente alzarti che ti farà avere dei bocconi ma anche rimanere in quella posizione cioè in piedi ti farà ottenere bocconi. Ok? Quindi il cane si alza mangia frazione di secondo un altro boccone mangia frazione di secondo un altro boccone mangia per tre quattro bocconi e poi lo rimettete a terra come abbiamo fatto prima. E quindi lavorate questa coppia di posizioni. Terra in piedi. Terra in piedi. Ok? In questa fase molto probabilmente voi avrete che il cane muove ancora gli anteriori. Non è un problema. Non è un problema. In questa fase noi stiamo insegnando al cane i movimenti che lo portano da una posizione all'altra. Non ci interessa ancora particolarmente il fatto che lui riesca a tenere le zampe ferme. Ok? In un'altra sessione lavoreremo in piedi seduto. Ok? Quindi ci posizioniamo noi sempre come prima in ginocchio per terra posizioniamo il cane davanti a noi in laterale paghiamo la posizione in piedi per due o tre volte. Poi per farlo sedere quello che dobbiamo fare è tirare su la mano con il boccone. Il cane sarà portato ad andare su con la testa e immediatamente o quasi andrà giù il posteriore. Ok? Appena il cane è seduto pagate. Pagate un po' più alto. Ok? Della sua testa in modo che il cane nel prendere il boccone debba stare con la testa verso l'alto. Ok? Questa vi tornerà utile più avanti perché aiuterà maggiormente il cane nel movimento e ad essere più veloce. Ok? Quindi avete il cane in piedi, state pagando, dovete metterlo seduto, alzate la mano e pagate con il muso del cane rivolto verso l'alto. Pagate, 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 pagate. Ok? Per rimettere il cane in piedi dal seduto, dalla posizione in cui voi avete il boccone in alto, dovete sostanzialmente portare con un movimento veloce la vostra mano all'altezza del petto del cane. Ok? Il cane cosa fa? È così, la vostra mano arriva al petto. Ok? E deve proprio la vostra mano toccare il petto del cane. Il cane cosa farà? Abbasserà immediatamente la testa per seguire il boccone, ma siccome non basterà abbassare la testa perché il boccone sarà più verso l'interno, sarà portato a alzare immediatamente il posteriore per poter raggiungere meglio il boccone. Ok? Appena il cane è alzato il posteriore, fatelo mangiare. Se nella posizione seduta il cane mangiava con la testa rivolta verso l'alto, nella posizione in piedi il cane mangia ancora con la testa rivolta verso il basso e con la vostra mano all'altezza del petto del cane. Ok? Dalla posizione in piedi ripetete per portarlo seduto, con un rapido movimento portate la mano sulla sua testa. Ok? Il cane si siederà, mangerà in alto, riportate la mano all'altezza del petto del cane, abbasserà la testa, si alzerà il posteriore, mangia. Ok? Ripetete questi movimenti per un po' di volte e ricordatevi sempre di continuare a pagare con due o tre bocconi la posizione. Quindi seduto, mangia, 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 in piedi, mangia, 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 mangia. Ok? È fondamentale questo. Se voi insegnate al cane che una volta che si è seduto, tiene il boccone, ha finito, voi avrete, potreste avere che il cane dopo aver esibito la posizione e aver mangiato immediatamente esce dalla posizione perché non si aspetta che venga più rinforzata quella posizione lì. Ok? Quindi è fondamentale per dire al cane continua a tenere quella posizione che il cane continui ad essere rinforzato per un tot di volte prima di chiedergli un cambio di posizione. Tutto chiaro? Bene. Terza coppia di posizioni. Abbiamo il terra e il seduto. Partiamo dalla posizione a terra che è più comodo. Partendo dalla posizione a terra che abbiamo già lavorato e quindi il cane la sa fare e noi sappiamo come mettere il cane a terra nel modo corretto, quello che dobbiamo fare è la mano si muove quasi come per mettere il cane in piedi con la differenza che per mettere il cane in piedi dal terra noi allontanavamo la mano dal naso del cane in maniera obliqua perché noi vogliamo che il cane si alzi e per alzarsi il cane deve essere proteso in avanti, il movimento deve essere proteso in avanti. Per mettere il cane seduto partendo dalla posizione a terra la mano deve muoversi più in verticale. Ok? O come faccio io in realtà è più un movimento quasi curvo. Partite dal naso del cane, questo movimento curvo fa sì che la vostra mano si stacchi dal naso del cane allontanandosi e quindi il cane per seguire la mano inizia già il suo movimento per alzarsi ma nel momento in cui la mano si sta allontanando immediatamente si riavvicina diciamo andando verso l'alto. Quindi cosa succede? Che il cane segue la mano si alza, quando la mano va su il cane per seguire la mano su farà quella cosa che sa fare, cioè tiro sulla testa e abbasso il posteriore. Ok? Quando avrete questo pagate. Dalla posizione seduto volete rimettere il cane a terra, quello che dovete fare è un rapido movimento della mano che dall'alto immediatamente scende tra le sue zampe. Immaginate il cane seduto, quindi le zampe sono belle, parallele, magari anche con i piedi abbastanza vicini quello che voi dovete fare è scendere immediatamente con la mano e il boccone tra le zampe anteriori. Ok? Il cane per assecondare questo vostro movimento non farà altro che scendere immediatamente di posteriore e non avendo lo spazio, perché la vostra mano è scesa proprio perpendicolare al terreno non avendo lo spazio per andare a terra non farà altro che tirare indietro il posteriore. Ok? In questo modo il cane sarà obbligato a spostare indietro il posteriore per poter raggiungere con il petto e quindi la testa il boccone che voi avete poggiato a terra. Ok? E pagate il terra. Stessa cosa al contrario. E ripetete questo movimento x volte. Ok? In tutta questa fase, come vi ho detto prima, a noi non ci interessa che il cane tenga ben ferme tutte e quattro le zampe. Ok? In questa fase ci sta che il cane muova le zampe ancora parecchio. Non ci interessa, noi tutta questa parte di lavoro l'abbiamo fatta per insegnargli i movimenti che lo portano da una posizione all'altra. Da questo momento in poi possiamo iniziare a lavorare le zampe ferme. Ok? In che modo? Se voi osservando il vostro cane vi siete resi conto che il cane si siede e va a terra naturalmente tenendo di più gli anteriori fermi e volete quindi assecondare i naturali movimenti del vostro cane, come ho fatto io con Belial, quello che dovete fare è iniziare a lavorare con un target. Potete utilizzare una tavola come target. Potete utilizzare come target una tavola come questa. Ok? Voi avreste dovuto lavorare il target zampe su tappetino. Ok? È un video che io ho fatto ormai già da parecchi mesi, quando nel titolo io scrivevo che quello è uno dei fondamentali nel lavoro con il cane perché è un esercizio, è un'abilità che poi ci serve per costruire cose più complesse. Ok? Quindi se non avete insegnato al cane quel comportamento andatevi a cercare quel video, anzi ve lo linko qui in alto, guardate quel video, insegnate quel comportamento. Nel momento in cui voi avete insegnato al vostro cane ad andare con le zampe sul target non dovete fare nient'altro che sostituire il tappetino con questa tavola. La mettete per terra, chiedete al cane di andare con gli anteriori sulla tavola, ok? Da quel momento in poi se il cane ha, uno, imparato bene che è quando si va con le zampe sul target bisogna tenere le zampe ferme e poi sta imparando questi movimenti che voi gli state insegnando, magari non subito ma lentamente il cane associerà le due abilità. quindi inizierà a proporvi i movimenti che voi gli state insegnando tenendo le zampe il più ferme possibile. Sì 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 Bravo Plazzi Sì 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 Plazzi Sì Ok? Qui dovete anche essere bravi voi a selezionare nei movimenti che il cane fa quale pagare e quale no, Nel senso, per esempio, dalla posizione a terra voi dovete mettere il cane in piedi, se nell'alzarsi il cane muove le zampe sul target, anche solo le solleva, voi non pagate. Rimettete il cane a terra, gli richiedete il movimento, magari guidatelo con dei movimenti più lenti con la mano, ok? E nel momento in cui vedete che il cane si solleva tenendo le zampe quasi come se fossero incollate al target, pagate, ok? Quindi a quel punto iniziate a selezionare quale comportamento pagare. Il cane esibisce il comportamento ma le zampe si muovono troppo, non te lo pago. Ti rimetto nella posizione, ti richiedo lo stesso movimento, se lo fai tenendo le zampe ferme, te lo pago, ok? Quindi in questa fase noi iniziamo a lavorare sulla precisione di esecuzione. Bene, credo di avervi detto tutto, spero di essere stato abbastanza chiaro. Come sempre, se avete dubbi, domande, non esitate a scrivere nei commenti. Come sempre lasciate un like al video se vi è piaciuto, condividetelo, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e attivate la campanella per ricevere notifiche quando escono i miei nuovi video. Come sempre, buon lavoro, grazie, ciao!